Ciao mio caro amico aspirante trader professionista e profittevole Oggi è giovedì 13 giugno 2019 E io mi auguro che tu davvero in quest'estate Tu prendi la decisione di lavorare con me Di tossificarti Di tradare finalmente un potere divino E diventare un trader professionista E guadagna ogni giorno in ogni mercato In ogni situazione di mercato Facendo un lavoro di trading con me Ok? Bene, lascia che ti mostri i due o tre profittevoli che ho fatto oggi E come mai le motivazioni Ma partiamo dall'analisi del market profile Allora, questo è il market profile di ieri più di questa session Ieri abbiamo avuto, come vedi, un range veramente stretto Con una valo area molto 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 stretta qua, come vedi Durante la overnight session Asia session ha rotto a ribasso E poi durante la London session Megat ha rotto a rialzo Quindi dici, uno scenario piuttosto complesso Bene, in questo scenario Se sai leggere il market profile E soprattutto se sei tossificato E quindi tradi con potere divini Perché non c'è più niente Ti può bloccare Da guadagnare questi fottutissimi soldi E ti servono per vivere Per fare la vita ricca E libera Finanziaramente libera E davvero ti meriti Allora Non hai chance Perché l'unico modo per tradare nel flusso nei mercati È di tossificarti E scoprire segreti del market profile Del order flow E soffrire dei vantaggi Delle fregature Della dalasitecchia E tutti fanno Ok? Che tutti seguono Bene, in questo scenario C'è un contesto qua In cui La direzione da andare È longa L'apertura E Questa screenshot Ho scattato 37 secondi Per l'apertura E guardate cosa è accaduto Praticamente Io posiziono 5 contratti buy A 51 Secondi Dall'apertura Ok? Bene Perché qui sotto C'era un importante Supporto dinamico Fatto di big buyers Ecco perché ho messo 5 Buy Order to buy Bene Il mercato apre Come apre Il mercato mi esegue I miei 5 ordini Il mio target È su questa linea Magenta Un importante livello Di due sessioni P2za fa E Praticamente coincide Con questo swing Guide Dalla sessione overnight Il mio stop loss È su un nodo Di bassi volumi Preso dalla sessione Del market profile Overnight Bene Il mercato Come vedi Fa Una Rottura a ribasso Per prendere Altri ordini Pendenti Buy Come vedi C'è un bellissimo Sequenzial decline Qui Con un grosso Buy and balance Qua I sellers Cominciano ad essere Intrappolati Questo è Il graffio A candela Ancora 5 minuti E questa È la distribuzione Dei volumi Bene Questo è il graffio P2za A un minuto Mi vedi Il mercato Apre E sta andando Direttamente al mio target Ma cosa succede Il mercato Ha un tick Da questo target Si rallenta E inizia a invertire Su questo Pullback Io sapevo Che il mercato Sarebbe andato ancora A rialzo Infatti Mi sono posizionato Altri 5 minuti Pendenti Buy Il mercato Me le esegue Perché ha Intrappolato Tutti i shortisti Questa Ia nera È il massimo P2za di ieri E cosa succede Il mercato Mi va di nuovo Verso il mio target E per un tick Non lo sfiora Rifà ancora Un pullback Ed ecco Questa è l'ennesima Occasione per rimettere 5 contratti Ancora pendenti Buy Che so Il mercato Eseguirà Perché il mercato Deve andare Long Il mercato Me le esegue A questo punto Se guardi Il footprint A 5 minuti Ci sono grossi Buying balance Qui Di tutti questi Trapped sellers Che sono intrappolati Che devono Ricomprare La loro posizione Per uscire Con limitando Le perdite Ed ecco perché Adesso il mercato Accelera E siamo Alle 15 E 35 E il mercato Mi va a target Quindi io Alle 15 E 35 In 5 minuti Di lavoro Poi il mercato Esplode Addirittura Rialzo Segno la mia Intuizione Tutti questi Sieders Erano Trappolati E in 5 minuti Lavoro Mi sono portato A casa 1125 dollari Io Alla mia Non so Se ti rendi conto Del potenziale Che c'è Dietro al mio Metodo Ai miei segreti Alla mia Dossificazione Per trade Al market profile Con i segreti Davvero io So E se davvero Devo continuare A fare la vita La perdente Che stai facendo Allora abbandona Questo canale E il mio video Ma se davvero Senti dentro di te Che la decisione è giusta Allora contattami subito E contattami adesso Bene Siccome sono un trade professionista Ho fatto un altro trade E questo per mostrare Soprattutto a te Che puoi prendere Anche piccoli profitti Quando c'è l'occasione Questo trade scatta Alle 15.41 Questo è Un trade Su un Rossuc Long A 1 minuto O a 5 minuti O me ti pare Ok Come vedi Il rimbalzo È proprio da questa linea Color magento È un importante livello P2Session Di due sessioni fa E Qui ci sono Un sacco di trade Entrappolati Bene Una volta il mercato Fa questo rimbalzo Io entro con due contratti Il mercato mesi Con due contratti Il primo target È veramente di breve Il massimo overnight Questa linea Bucchiaro L'ultimo target È un po' più su È il massimo P2S Di due sessioni fa Il mio stop loss È strutturale E è qua sotto Come vedi Sotto questo big buy In balance Il mercato cosa fa? Mi prende il mio ordine Primo target E il secondo target In un minuto E questo è il secondo Profittevole Con cui ho aggiunto E poi il mercato È andato ancora più A rialzo Come vedi Ma non ce ne frega un cazzo Perché conta Il profitto E come vedi Ho aggiunto Altri 100 dollari Al mio profitto totale Chiudendo con 1225 dollari Profitto Cara mio Se anche te Vuoi tornare in questo modo Fare anche meglio di meno Il mercato difficile Ci vediamo domani Al prossimo video Profittevole Ciao